Per una grande famiglia c'è bisogno di una grande auto, proprio come lei Citroën Grand C4 Space Tourer Nella sua versione 1.5 di cilindrata, 130 cavalli, col motore blu HDI di ultima generazione Conforme alle leggi antinquinamento, allestimento Shine, super accessoriata Fa parte delle nostre auto aziendali con singolo utilizzatore E ha percorso 12.465 km Ha superato tutti i controlli degli Automotive Expert e in ottime condizioni è pronta per voi Notiamo subito che i cerchi in lega multirazza sono tenuti perfettamente Ai vetri oscurati, i gruppi ottici allo Xenon con questa striscia LED di posizione Gli interni riprendono benissimo il nome Space Tourer Sono spaziosi, regolabili singolarmente Non si tratta appunto di un divano unico ma di tre singoli sedili Troviamo poi il tavolino da viaggio molto comodo con questa luce Eccoci a bordo, notiamo subito i due schermi dell'infotainment E il volante con i comandi integrati Troviamo il cruise control e i comandi vocali Più i comandi per gestire le chiamate La dashboard totalmente digitale Con questo schermone sulla plancia Che ci rivela i cartelli stradali Che ci dà la velocità, l'autonomia, i consumi Dallo schermo touch invece possiamo gestire l'infotainment e il clima Bizzone automatico in questo caso Troviamo poi il navigatore, comodissimo per i nostri viaggi La radio DAB, il bluetooth per le chiamate E il mirror link per connettere lo smartphone E avere le nostre applicazioni come Spotify, i messaggi Il nostro navigatore preferito direttamente sullo schermo Poi qui tutte le regolazioni e le funzioni di guida Abbiamo un sacco di funzioni di guida comodissime Tra cui l'assistenza al parcheggio Con retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Tra i sistemi di sicurezza troviamo anche l'Acti Safety Brake L'allarma e stanchezza guidatore E visualizzazione della velocità consigliata Vi consigliamo assolutamente di non disattivarli mai Potete al massimo regolare il tipo di Acti Safety Brake Ad esempio se volete che freni quando è più vicino O quando è più lontano In base alle vostre preferenze In questa versione la troviamo addirittura con il Park Assist Ci spiega come effettuare la manovra Sotto questo sportellino troviamo poi alcuni ingressi Come la presa USB, l'ingresso AUX e la presa 12V Si chiama Space Tourer per un motivo Sia perché il suo bagagliaio è super spazioso Ma anche perché qua sotto troviamo altri due posti Quindi l'auto diventa ben sette posti E quindi è perfetta per viaggiare, per muoversi in città, per fare la spesa Di spazio ce n'è a volontà Anche degli ottimi consumi Soprattutto nella sua versione diesel Ve la consigliamo se fate tanti chilometri durante l'anno Scoprite questa Grand C4 Space Tourer Su RattiAuto.com insieme a tutte le altre versioni Colore e allestimenti Su RattiAuto.com trovate poi più di 500 auto disponibili E tutti i nostri servizi Approfittatene perché abbiamo i finanziamenti online La consegna a domicilio La valutazione dell'usato da dare in permuta E tanto altro Anche questa verrà lavata e igienizzata Prima di essere vi consegnata Per garantirvi il massimo dell'igiene Noi ci vediamo alla prossima Ciao Ratti Lover Ciao Ratti